Lasciamo Nicola Bresciani alle sue notizie e addentriamoci nella musica di Jack Studio grazie alla voce di Ezio Belcamino. Da Jormac O'Connor a un altro personaggio, anch'esso americano, particolarissimo e che non si può inserire in nessun genere musicale se non quello che lui stesso ha inventato. Si chiama JJK e lo troviamo qua con il suo quinto 33 Giri, forse uno dei migliori di tutta la sua carriera, senza dubbio superiore anche l'ultimo Shades. Friday Vendeldì era ieri, però la canzone va bene anche oggi. Friday, una canzone di JJK che è l'estrata dal suo ultimo 33 Giri, intitolato Five, anzi il suo penultimo 33 Giri, visto che l'ultimo l'abbiamo già presentato la settimana precedente nelle anteprime. Si intitola Shades e contiene quel carry on che dovrebbe essere entrato anche nella nostra hip parade questa settimana. Ancora musica, questa volta dall'Inghilterra, con un grosso personaggio che porta il nome di Stevie Wynbert. Già a 16 anni suonava l'organo e il sintetizzatore e tutte quelle cose lì. Il vecchio Spencer Davis Group, poi diventato leader dei traffic, adesso da solo da Hark of a Diver. Spanish Dancer Probabilmente se i traffic suonassero ancora, le loro canzoni sarebbero molto simili a questa. Steve Wynbert Grazie a tutti